...dell'Hockey Club Lugano, un altro giocatore che ha visto il proprio numero rintirato qualche stagione fa, ovvero Petteria Nubeli. Tirkauf lascia Joses, c'è spazio per il numero 21 che sa c'entra, mette lì e arriva il primo gol della Lugano. A firmarlo è Calle Anderson. Andreas premiato questo inizio aggressivo del Lugano. Assolutamente, penso che hanno veramente giocato subito a un dominio offensivo e la strategia appunto di Max Orly con il lancio lungo in questa situazione la si vede molto bene con il recupero di disco in zona offensiva. Qua vediamo già il disco recuperato con questo passaggio praticamente in una rotazione e qua ha tantissimo spazio, troppo e chiaramente difficilissimo, impossibile per il portiere ancora arrivarci. E' facile invece ipotizzare che qui a Lugano che si fa nuovamente minaccioso per Burger, Calle Anderson, la conclusione di prima attenzione di Wolf perché rimane lì, non c'è nessun bianco-nero. A mettere in mostra queste qualità, Mirko Müller, Caschi, disco su, Ciaccio traffico lì nello slot. Altra chance, Bennett, giro di Bennett va giù, Ciaccio ancora Bennett. Con il cronometro il Lugano, Lugano che fa un balzo in avanti in classifica, da zero punti si passa a tre. La prima è andata.